Se non paghi 5.000 euro al mese ti mettiamo fuoco al negozio. Questa la minaccia che due giovani arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo con l'accusa di tentata estorsione e detenzione porto illegale di armi da guerra del tipo Molotov avevano fatto al titolare di un negozio di Pescara. Con l'operazione Pitbull partita lo scorso 7 giugno quando il commerciante trovò una bottiglia Molotov del liquido infiammabile con uno stoppino ed un messaggio dinanzi al suo negozio sono finiti in manette nelle ultime ore Williams Bellotti 21 anni e Kevin Orsini 22 anni entrambi di Pescara. Queste due persone hanno posizionato questa bottiglia incendiaria all'interno del liquido infiammabile appunto uno stoppino ed era messo in maniera tale che poteva effettivamente esplodere comunque incendiarsi. Ci hanno avvisato una signora di passaggio ha visto questa cosa e ha chiamato il 112 lo stesso proprietario poi ci ha fatto la denuncia ovviamente e tutta una serie attraverso di indagini, di accertamenti tecnici sulla bottiglia, sul foglio di carta minatorio che c'era all'interno, controllo del territorio, l'utilizzo delle telecamere, intercettazioni telefoniche siamo riusciti ad divenire l'identificazione dei responsabili di questo gesto. Grazie alle telecamere privati siamo riusciti a identificare questi soggetti subito dopo l'effettuazione di una chiamata minatoria da una cabina, li abbiamo censiti da questa telecamera compatibili gli orari del passaggio dei due con la telefonata effettuata, successivamente li abbiamo dovuti però andare a identificare. Comunque sono stati scaltri anche perché quando hanno posizionato la bottiglia non sono stati visti da nessuno né vi erano telecamere in zona o comunque se c'erano sono stati scaltri nel non farsi riprendere quel frangente.